Buongiorno, è trascorso un anno molto difficile per l'amministrazione comunale e per quindi tutta la cittadinanza di Floridia. Stiamo scendo da un momento di grande crisi economica soprattutto in Sicilia, nonostante vi siano dei segnali incoraggianti dall'economia italiana, oggi dobbiamo registrare una battuta forte d'arresto dell'occupazione e anche dei consumi, dei servizi che vi sono in questa nostra provincia. Questo è un dato dal quale dobbiamo necessariamente partire perché altrimenti non direi la verità in questo momento ai miei concittadini. In modo particolare mi voglio rivolgere a tutte quelle famiglie che in questo momento attraversano un momento di grande difficoltà e a quelle famiglie che sono passate da una condizione di benessere ad una condizione appunto di difficoltà come dicevo prima. È un momento che non si può affrontare da sole, le istituzioni devono stare unite, devono cercare in tutti i modi di trovare insieme le soluzioni migliori per poter affrontare questo momento di grande crisi. Io però voglio essere ottimista e credo che il futuro ci riservi dei momenti migliori. Un augurio di Buon Natale lo voglio dedicare anche a tutte quelle persone che in questo momento stanno affrontando una malattia. Purtroppo anche in questa circostanza dobbiamo registrare un aumento dei malati di tumore nella nostra città e dobbiamo registrare anche un incremento di tante altre malattie alle quali ovviamente come amministrazione non possiamo far fronte perché non è un compito diretto che dipende dall'amministrazione, quello della salute, ma un pensiero va a tutte queste persone che oggi stanno soffrendo e che comunque la speranza li deve aiutare ad andare avanti. Noi in quest'anno credo che abbiamo ottenuto degli importanti risultati sia da un punto di vista amministrativo che sociale, nonostante le difficoltà di cui vi dicevo prima. Uno degli aspetti dell'amministrazione a cui abbiamo voluto dedicare la maggior parte della nostra attività è il settore della scuola. Nel settore della scuola posso dire che abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Nel mese di gennaio sarà inaugurato l'asilo Nido Madre Teresa di Calcutta che era stato chiuso in precedenza e che nell'anno scolastico 2016-2017 partirà nuovamente per quelle famiglie che vorranno appunto affidare i loro bambini a questo asilo Nido. Ma altri importanti risultati abbiamo ottenuto quali ad esempio un finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro per le scuole di ultima generazione, abbiamo partecipato ad un bando nazionale dove soltanto 30 città italiane hanno ottenuto questo finanziamento e tra queste 30 città c'è anche la città di Floridia. E poi sempre nel campo della scuola abbiamo fatto degli interventi ottenendo anche in questo caso dei finanziamenti esterni nelle scuole quali ad esempio la Quasimodo, la Pirandello, nella scuola di Via Giusti. Insomma non c'è stata scuola che non è stata in questo anno toccata da interventi da parte dell'amministrazione. L'ultimo finanziamento è quello di 400 mila euro che abbiamo ottenuto per la ristrutturazione, per gli infissi nuovi, per la ristrutturazione dei bagni e per l'antingento e quindi la sicurezza dei nostri bambini della scuola media Quasimodo. E sempre nel versante della scuola un altro aspetto importante riguarda la messa in sicurezza con un progetto importante che si chiama Scuole Sicure che è iniziato negli anni passati col posizionamento di telecamere che sorvegliano gli ingressi delle nostre scuole. Potrei citare altri interventi ma ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore non fosse altro per l'impegno che è stato profuso personalmente dal sottoscritto e si tratta del fatto che il liceo scientifico di Floridi ha riacquistato nuovamente l'autonomia in questa ultima parte dell'anno grazie ad un lavoro sinergico che questa amministrazione ha svolto insieme al Libero Consorzio di Siracusa ma anche insieme all'assessorato regionale per la formazione e per la pubblica istruzione. Questo è un risultato importante per l'intera comunità floridiana. E poi sempre nel versante della scuola, questo non possiamo dimenticarlo, il fatto che oggi i nostri alunni viaggiano in sicurezza. Mi riferisco agli alunni pendolari che negli anni passati hanno affrontato il viaggio da Floridi a Siracusa sempre con il rischio di non arrivare la mattina a scuola. Da quando abbiamo per necessità privatizzato il servizio siamo riusciti a trasportare in sicurezza questi ragazzi tutti i giorni a scuola e questo è un altro risultato che questa amministrazione ha voluto ottenere con una scelta ben precisa. Con noi sempre nel versante della scuola la refezione scolastica non è partita mai nel mese di dicembre ma è partita quando è iniziata la scuola, cioè nel mese di ottobre. E poi un altro importante intervento che partirà invece nel mese di dicembre sarà l'Asacom. Questi sono dei risultati concreti che abbiamo ottenuto ma a questi se ne aggiungono altri in altri campi importanti che riguardano l'intera città di Floridia. Il primo riguarda ovviamente la gestione pubblica dell'acqua. Era uno degli obiettivi principali che avevamo scritto nel nostro programma. Oggi l'acqua viene direttamente gestita dal comune di Floridia ed inoltre abbiamo operato una riduzione del 18% sulla bolletta. Personalmente avrei voluto una riduzione del 30% ma la bolletta non viene determinata dalla volontà diretta dell'amministrazione ma abbiamo dovuto con un'agenzia nazionale individuare il prezzo, l'aliquota appunto della tariffa. Un altro obiettivo sempre nel versante dell'acqua riguarda l'apertura delle case dell'acqua che oggi consentono ai cittadini floridiani di poter risparmiare sulla spesa alimentare. In modo particolare queste case sono tre, le conoscete tutti, sono collocate nelle diverse zone della città. Una si trova nel quartiere Marchesa, l'altra si trova nella zona di piazza Nassiria e la terza si trova invece al viale Vittorio Veneto alla piazza Melbourne. Queste macchine hanno fatto risparmiare una cifra di circa 150 mila euro ai cittadini floridiani e anche all'amministrazione in termini di minor consumi di plastica e quindi hanno consentito una riduzione della produzione di plastica nella città di Floridia. Io devo dire che un altro aspetto importante che riguarda l'amministrazione è relativo a quelli che sono i conti del comune di Floridia. In modo particolare noi siamo uno dei pochi comuni che in Sicilia sono riusciti ad approvare il bilancio. Diciamo che già nel mese di agosto l'Aggiunta aveva deliberato il bilancio di previsione avendo fatto un'operazione che in termini tecnici viene definita come armonizzazione del bilancio che ha consentito a questo comune appunto di approvare il bilancio in tempi brevi. Ma il nostro problema non riguarda la tenuta dei conti, riguarda un problema di cassa, cioè un problema di liquidità che dipende purtroppo anche da parte di altri soggetti. Io vi do un dato per tutti. Su 360 milioni di euro che nell'anno in corso la Regione avrebbe dovuto trasferire ai comuni siciliani ad oggi sono stati trasferiti una somma come quasi 50 milioni di euro. Senza considerare i minori trasferimenti da parte dello Stato ecco che da qui deriva un problema che riguarda la liquidità dei comuni. Ma nonostante tutto abbiamo messo in sicurezza i conti in questo periodo e quindi posso affermare che se c'è un problema riguarda appunto la liquidità ma non riguarda la tenuta delle nostre casse. Un altro progetto che vorrei realizzare da qui al termine del mio mandato è un nuovo progetto dei rifiuti. Noi abbiamo già nel 2014 elaborato un nuovo progetto adeguato alle esigenze della città. Purtroppo dal 2009 si va in proroga con un progetto ormai obussoleto rispetto alle esigenze del territorio e questa è una esigenza quindi prioritaria perché l'obiettivo è quello non solo di rendere la città più pulita ma l'obiettivo fondamentale è quello di poter risparmiare sui rifiuti e quindi è quello di poter offrire un servizio migliore a costi inferiori ai nostri concittadini. Ma fino a quando questo progetto non sarà approvato ovviamente ciò non lo potremo ottenere. Io devo dire che qualche altro soggetto istituzionale dovrebbe assumersi delle importanti responsabilità che ancora oggi non vuole assumersi. Il problema non è bloccare questa amministrazione, il problema è bloccare a questo punto la città quindi ognuno dovrebbe avere la consapevolezza del ruolo che svolge e conseguentemente dovrebbe comportarsi. Purtroppo ciò spesso non avviene. Un altro campo molto importante di riferimento della nostra amministrazione è stato il settore della cultura. Nel campo della cultura abbiamo voluto investire molto perché un cittadino consapevole, un cittadino che ha gli attrezzi per poter valutare quelli che sono i cambiamenti storici e un cittadino che può affrontare il futuro meglio di un altro. Ecco perché abbiamo deciso di investire molto in cultura. Il prossimo anno apriremo il Palazzo della Cultura che è il Palazzo Raeli col trasferimento della biblioteca comunale al piano terra di questo palazzo che abbiamo acquisito, incomodato d'uso gratuito. Quindi l'amministrazione comunale a tal proposito non verserà dei soldi alla società proprietaria dell'immobile. Ma poi voglio ricordare grandi momenti di aggregazione che ha vissuto la città di Floridia. Il Natale a cui ci stiamo dedicando, il Carnevale dello scorso anno, ma in modo particolare vorrei ricordare alla comunità il Palio Ippico che dal 2006 non veniva più celebrato. Il Palio Ippico è stato per la città di Floridia di un momento importante che non riguarda soltanto la tradizione storica della nostra città, ma riguarda anche il futuro di questa città. Perché quel Palio non è importante soltanto per le attività commerciali che in quel periodo possono lavorare, ma è importante anche per tramandare alle giovani generazioni un elemento fondamentale della peculiarità della nostra tradizione, di una tradizione floridiana che è sicuramente tra le più importanti. E ho l'orgoglio quindi di dire che oggi il Palio è ritornato nella città di Floridi a distanza di anni e che il prossimo anno inserito all'interno della festa dell'Ascensione sarà ancora più importante. Io posso dire che siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, ma si può fare di più? Sicuramente sì. E questo anno e mezzo ci serve per calibrare degli ulteriori altri interventi. Intanto abbiamo realizzato molti bandi pubblici, appunto come ente, il bando dei campi da tennis della villa comunale, il bando di gestione dei locali che si trovano all'interno della villa, la gestione di locali che si trovano all'interno di Palazzo Raeli, il bando scade giorno 28, la gestione delle strisce blu che è stata già giudicata e che ritornerà nel centro storico ad essere nuovamente gestita in maniera più ordinata da parte di una ditta esterna e poi anche l'assegnazione dei lotti della zona artigianale. Ma credo che amministrativamente i risultati più importanti che abbiamo ottenuto in questi anni sono relativi soprattutto ai finanziamenti esterni che questa amministrazione è riuscita ad ottenere. Ne cito alcuni. L'asilo nido comunale. Abbiamo ottenuto per la ristrutturazione e la gestione 600 mila euro. Per quanto riguarda il bando della riqualificazione urbana dei quartieri Marchese e Vignalonga abbiamo partecipato ad un bando pubblico. Ancora stiamo aspettando che vengano trasferite le risorse al Comune di Florida da parte del Ministero delle Infrastrutture e da parte soprattutto della regione siciliana si tratta di un bando di 5 milioni di euro di cui 3 milioni di euro per interventi pubblici e 2 milioni per interventi privati. Ma poi voglio ricordare lo Sprar, un milione di euro in tre anni. La scuola Quasimodo, lo dicevo prima, 400 mila euro per interventi di ristrutturazione. Gli 890 mila euro del social housing, qui abbiamo consegnato sei case nuove a cittadini floridiani in condizioni di indigenza. 170 mila euro per i fondi PAC, poi abbiamo partecipato ad un ATS con altri comuni che prende il nome di Obiettivo Zero e abbiamo ottenuto un finanziamento per la redazione del PAES che è un piano sull'efficientamento energetico della città e inoltre abbiamo ottenuto quest'anno tre immobili che sono stati confiscati alla criminalità organizzata e infine abbiamo ottenuto anche un mutuo di 100 mila euro per la ristrutturazione del tetto della palestra di Vigna Longa. Questi sono degli obiettivi concreti che come amministrazione abbiamo ottenuto, ma credo che ci sia un altro aspetto importante che riguarda la vita della nostra città, riguarda il cimitero. Abbiamo operato delle modifiche al piano cimiteriale, stiamo in procinto di realizzare un nuovo project financing per il cimitero in modo tale da aumentare i loculi dello stesso e poi abbiamo anche realizzato delle opere di urbanizzazione all'interno dello stesso. A cosa stiamo lavorando? Stiamo lavorando ad esempio ad uno degli aspetti che credo importanti di questa città ma che purtroppo è un problema che riguarda non solo Florida ma che riguarda tutte le città siciliane. Vogliamo contenere ulteriormente il randaggismo con delle soluzioni che siano le soluzioni migliori e che trovino un punto di equilibrio tra coloro che amano gli animali e che vorrebbero che gli animali venissero accuditi per strada, ma questo non è possibile soprattutto in alcune zone della città e coloro invece che vorrebbero completamente far scomparire il fenomeno del randaggismo. È un fenomeno invece che va gestito, non va gestito con un canile comunale, questo sicuramente no, ma va gestito con uno stallo sanitario che è una struttura diversa rispetto a queste vecchie logiche che appartengono al passato e che rischierebbero di realizzare delle opere inutili, soprattutto delle incompiute e soprattutto delle opere difficili da gestire per un ente che ha pochissimi operai e pochissimo personale per poter gestire un'opera come questa e quindi fino a quando io sarò il sindaco di questa città quest'opera non si realizzerà. Inoltre un'altra opera importante che vogliamo realizzare è un dog parking e poi stiamo realizzando una convenzione con delle guardie venatorie per limitare appunto questo fenomeno. Stiamo lavorando anche per realizzare una dorsale all'acquedotto comunale, poi ci sono ovviamente degli altri bandi a cui abbiamo partecipato, questo lo voglio citare, si tratta anche in questo caso di un bando di riqualificazione urbana, in questa circostanza abbiamo individuato come zona quella ricompresa tra le vie Labriola, la via Foscolo, Piazza della Repubblica e quindi coinvolgerà anche la scuola Alessandro Volta. È un bando a cui partecipiamo con la speranza di poter ottenere il finanziamento. Fino ad oggi devo dire che la maggior parte dei bandi a cui abbiamo partecipato e partecipiamo quasi a tutti i bandi presenti abbiamo ottenuto dei risultati positivi. Un altro risultato che era sempre previsto nel nostro programma che abbiamo ottenuto è l'Urban Center. L'Urban Center è un contenitore di idee che apre il Palazzo Comunale ai cittadini, non soltanto per quanto riguarda la progettazione futura di questa città col contributo quindi di professionisti locali ma anche di giovani che vengono direttamente dal mondo dell'università, ma l'Urban Center ha voluto individuare il percorso di partecipazione cittadino anche in altri campi e in altri settori che vanno dallo sport alla cultura e via dicendo. Abbiamo partecipato anche ad un altro bando per l'abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzo Comunale e stiamo lavorando anche ad un ulteriore intervento per quanto riguarda la viabilità nella nostra città. Questo però vorremmo realizzarlo con interventi con fondi direttamente comunali. Insomma è stato un anno di lavoro, sono stati degli anni di lavoro, però noi siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto. Non sappiamo se potevamo fare di più ma sicuramente abbiamo fatto il massimo che era nelle nostre possibilità. È giusto che vi siano le critiche, è giusto che vi sia un controllo democratico, è giusto che vi siano dei confronti di natura democratico, però spesso mi accorgo che vi sono degli atteggiamenti che vanno oltre. Io credo che il rispetto reciproco invece sia un valore che dobbiamo reciprocamente pretendere nei confronti di tutti quanti e in modo particolare anche nei confronti delle istituzioni locali. Io vi voglio augurare un buon anno a tutti quanti nella speranza che sia un anno sereno, un anno più tranquillo e quindi anche un buon Natale e un Natale però nella riscoperta anche in questo caso delle nostre tradizioni. Per questo vi invito a visitare i presepi che stanno partecipando ad un concorso che è stato indetto da parte del Comune e vi invito anche a partecipare alle diverse manifestazioni culturali che con una spesa irrisoria sono state realizzate da parte dell'amministrazione. Il simbolo del nostro Natale quest'anno è stato il presepe per il significato cattolico che il presepe vuole rappresentare. Noi dobbiamo puntare sulle nostre tradizioni perché altrimenti faremmo un torto non solo nei nostri confronti ma anche nei confronti delle giovani generazioni. Il presepe rappresenta un simbolo del Natale, un simbolo che abbiamo voluto fortemente riproporre in questo Natale a dimostrazione del fatto che l'integrazione passa anche attraverso il rispetto di quelli che sono i valori della nostra cultura cattolica. Vi auguro molta serenità, di trascorrere un momento felice, vi auguro soprattutto molta salute perché credo che alla base della serenità di tutti quanti noi ci sia la salute. Ci sono dei problemi importanti che dobbiamo affrontare per questo vi chiedo di starci vicini e di aiutare l'amministrazione che ne ha molto bisogno. Auguri. Grazie. Grazie.